oggi parliamo di costo opportunità questo è un concetto che molte persone ignorano o a cui non viene dato il giusto peso ma può fare la differenza nella carriera di un investitore oggi vi racconterò di come un mancato investimento mi costato circa 4 mila euro in poco meno di un mese e piccolo dettaglio vi dirò anche perché non mi pento di non aver investito in quell'azione benvenuti su investire con gus per favore prima di iniziare vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi è assolutamente fondamentale perché io continui a fare questi video grazie mille se lo farete i 4 mila euro che ho perso non sono effettivamente una perdita ma sono un mancato guadagno dalla scelta che ho preso di non investire in un'azione il costo opportunità in economia il costo derivante dal mancato sfruttamento di un'opportunità concessa al soggetto economico quantitativamente il costo opportunità è il valore della migliore alternativa tralasciata in poche parole e quanto hai perso scegliendo di investire in una cosa piuttosto che in un'altra o scegliendo di non investirci l'otto novembre ho pubblicato sul mio gruppo di scordo una tesi di investimento su etsy decidendo però di non investirci se siete interessati ad entrare nel mio gruppo discord guardate questo video e scrivetemi una mail a investire con gus che c'è gmail.com oppure scrivetemi direttamente su instagram a investire.com.gus avevo deciso che il mio prezzo di acquisto il mio prezzo target sarebbe stato circa 55 dollari per azione in quel momento l'azione gravitava intorno ai 60 dollari e al momento purtroppo sta 82 dollari per azione probabilmente il mio investimento sarebbe stato intorno ai 10 mila euro perciò al momento il potenziale guadagno che ho perso sta poco sotto ai 4000 euro in questo video vi mostrerò la mia tesi di investimento su etsy vi spiegherò perché mi piace l'azione e vi spiegherò anche perché ho deciso di non investirci e perché non me ne pento anche se vi confesso mi rode parecchio non averla presa etsy è una società di commerce che opera con l'obiettivo di offrire prodotti unici e fatti a mano dai venditori attivi sul sito si concentrano sul vendere prodotti dedicati ad occasioni speciali come compleanni anniversari e nuove nascite il management vorrebbe creare una casa di brand di commerce rilevanti e specializzati per riuscirci hanno effettuato tre acquisizioni importanti reverb ilo 7 e di pop reverb è un marketplace online che offre strumenti musicali nuovi e usati di pop invece molto si une alla nostra vecchia conoscenza poshmark è un marketplace che permette di comprare vendere prodotti principalmente usati infine ilo 7 è un piccolo e commerce considerato lezzi del brasile questa acquisizione si è rivelata un fallimento e la società è già stata venduta i marketplace della società connettono 95 milioni di acquirenti a 7,5 milioni di venditori in tutto il mondo i prodotti maggiormente venduti su etsy sono prodotti per la casa arredamento gioielli accessori abbigliamento carta forniture per feste e giocattoli queste categorie nel 2022 hanno rappresentato l'86 per cento del gms il gms sono le gross merchandise sales da non confondere con i ricavi circa il 40 per cento del gms è stato generato dalla vendita di arredamento etsy.com fa soldi in due modi tramite la marketplace revenue e tramite la services revenue la marketplace revenue consiste nelle fee che la società ottiene dai venditori operanti sul sito infatti la società non vende alcuno dei prodotti offerti in maniera diretta ma si limita ad offrire la vetrina cioè il sito stesso queste sono le fee che i venditori devono corrispondere ad etsy 20 centesimi per ogni prodotto messo in lista per la vendita e questa fee va ripagata ogni quattro mesi nel caso in cui il prodotto non fosse stato venduto e poi c'è la commissione di transazione che il venditore paga dopo il completamento di ogni vendita che è il 6,5 per cento del prezzo di vendita e infine la commissione per l'utilizzo di etsy payments che varia tra il 3 e il 4,5 per cento riverbe di pop invece addebitano una commissione di transazione rispettivamente del 5 e del 10 per cento sul prezzo di vendita e una fee per l'elaborazione dei pagamenti le services revenue invece sono le commissioni che i venditori pagano per i servizi opzionali offerti dalla piattaforma etsy ads cioè le pubblicità sul sito che permettono ai venditori di ottenere un bel piazzamento dei loro prodotti in vendita e etichette di spedizione che permette ai venditori su etsy in usa canada uk australia e india di comprare etichette di spedizione scontate anche di pop e reverb offrono gli stessi servizi il management di etsy è un pochino controverso nel senso che il ceo è una bestia è stato fondamentale nell'eseguire i turn around di ebay e skype e anche con etsy ha fatto un lavoro strepitoso però anche un piccolo difettuccio non sa fare le acquisizioni è assolutamente pessimo ad effettuarle come vi dicevo prima l'acquisizione di ilo7 è stata un flop totale e invece l'acquisizione di dpop è stata abbastanza un flop perché la società è stata stra mega pagata hanno pagato tipo 50 volte i ricavi e sì la società a crescere ottiene buoni risultati però hanno pagato un prezzo veramente folle e la stessa cosa possiamo dirla per reverb quindi questa sua mania questo suo sogno di creare una house of brands per etsy potrebbe essere un problema per la società però cosa positiva è stato capace di riconoscere i suoi errori durante le earnings call ha parlato delle acquisizioni e ha detto di aver sbagliato di aver strapagato queste società quindi l'ultima speranza la nostra speranza è che non commetta nuovamente questi errori li ha commessi una volta ha imparato basta si va avanti ha messo l'errore ottimo però non bisogna ripeterlo oltre a questo il ceo è veramente fantastico preparato e capace ovviamente durante la pandemia la società ha ottenuto dei risultati mostruosi come vedete i ricavi sono stati praticamente raddoppiati in un anno dal 2019 al 2020 poi sono cresciuti ancora nel 21 e nel 2022 un po meno ma sono cresciuti comunque l'utile operativo invece è aumentato in maniera spropositata tra il 2019 e il 2020 poi è cresciuto ancora nel 21 ma poi è crollato nel 2022 chiaramente il margine operativo è tornato a livelli più normali quindi la società un pochino perso profittabilità adesso che siamo in una situazione più normale nel 2023 ricavi della società stanno crescendo grazie all'aumento delle commissioni di vendita su etsy dal 5 al 6,5 per cento però il gms è piatto e fermo barra negativo quindi il mercato al momento è terrorizzato ha paura che la società non riuscirà più a crescere in futuro però secondo me questa sarà in grado di ottenere un cagre dei ricavi quindi la crescita annua dei ricavi tra il 5 e il 10 per cento nei prossimi cinque anni come penso vi avevo già detto in qualche video temevo che etsy non avesse un moat però facendo un po di ricerche ho capito che probabilmente un bel moat c'è infatti etsy è il negozio artigiano del web è l'unico e commerce ad offrire prodotti unici e fatti a mano che non siano cinesate passatemi il termine molto volgare siti come shane ultimamente temu vanno molto forte etsy si differenzia da questi e da amazon perché offre prodotti unici prodotti che certe volte vengono anche personalizzati dal venditore su richiesta dell'acquirente quindi penso che la value proposition di etsy sia molto particolare e unica ovviamente c'è un grosso effetto network perché ci sono 95 milioni di acquirenti che continuano ad attirare venditori che possono mostrare i loro prodotti al mondo intero e sul sito ci sono 100 milioni di prodotti cosa che continua a far tornare gli acquirenti sul sito i prezzi sono modici non sono elevati si trovano prodotti veramente fantastici fatti a mano a prezzi molto contenuti la società ha dimostrato di avere un ottimo pricing power perché dopo gli aumenti recenti delle commissioni di acquisto molti si sono lamentati ma alla fine le persone continuano a stare su etsy la società ha una generazione di cassa mostruosa un margine free cash flow del 25 per cento veramente fantastico e heroic sta intorno al 20 per cento due cose che indicano che la società è superiore ovviamente ad utilizzare etsy c'è una grossa convenienza e una grossa comodità un venditore che voglia provare ad iniziare a costruire il suo piccolo business artigiano ha un'enorme convenienza di iniziare a vendere su etsy pagando una fee del 6,5 per cento piuttosto che aprendo un intero negozio che comporterebbe rischi e costi enormi iniziando ad operare su etsy il rischio di impresa viene ridotto esponenzialmente come vi mostravo prima i risultati della società sono stati molto buoni ma c'è stato un peggioramento a livello di margine operativo e margine di free cash flow però siamo comunque a livelli veramente ottimi superiori rispetto alla media anche lo stato patrimoniale è veramente molto buono la società ha circa un miliardo di dollari in disponibilità liquide non hanno debito a breve hanno un debito a lungo intorno ai 2,2 miliardi situazione veramente ottima che permetterà alla società insieme alla generazione di cassa di effettuare molti buy back in futuro a mio avviso come vi ho detto in altri video la valutazione era molto depressa molto bassa con un price to free cash flow addirittura inferiore a 10 però ha avuto delle difficoltà con la valutazione perché il discounted cash flow e la valutazione con i multipli avevano una discreta differenza questa è la mia valutazione base utilizzando i multipli ho proiettato ricavi al 2028 di 3,5 miliardi un free cash flow margin del 25,5 per cento che ci porta a una generazione di cassa di 912 milioni nella mia proiezione ho proiettato buy back al netto delle stock base compensation per 3,6 miliardi tra il 2024 e il 2028 ho supposto che questi buy back fossero effettuati a 100 dollari per azione questo ci porterebbe a 83 milioni di azioni disponibili al 2028 quindi il free cash flow per share potrebbe essere circa 11 dollari applicando un price to free cash flow tra 15 e 17 la società potrebbe valere tra 164 e 186 dollari io ho preso il livello più basso cioè 164 effettuando un discounted cash flow utilizzando un discount rate dell'11 per cento e una crescita perpetua del 3 per cento si arriva invece a un valore per azione finale al 2028 di 141 dollari quindi abbastanza più basso motivo per cui ho deciso che la mia valutazione base sta intorno ai 150 dollari al 2028 e ho perciò deciso che avrei voluto comprare l'azione tra i 55 e i 57 dollari per azione più verso i 55 vi ricordo che quando investo in un'azione il mio obiettivo è quello di ottenere il 20 per cento annuo e generalmente mi piace essere parecchio conservativo e magari comprare a livelli un pochino più bassi rispetto a quelli che mi permetterebbero di ottenere il 20 per cento annuo perciò il mio prezzo di acquisto finale sarebbe dovuto essere intorno ai 55 dollari per azione prezzo che non ha raggiunto e quindi non sono riuscito ad acquistare l'azione ovviamente questo mi dispiace però mi piace essere molto preciso sui miei prezzi di acquisto una volta che lo decido non ho motivo di comprare ad un prezzo più alto questo per evitare e per ridurre il più possibile le perdite più sono preciso nelle valutazioni più sono conservativo meno perdite subirò ne subirò sicuramente comunque però magari saranno più lievi dopo la bolla del 2021 in cui tutti compravano guidati dalla fomo io stesso in certi casi ho deciso di essere molto duro sulle mie regole ho deciso di non farmi guidare della fomo e di aspettare pazientemente che le mie azioni arrivino al mio target se non ci arriveranno pazienza di occasioni ce ne sono miriadi prima o poi arriveranno e magari chissà un giorno l'azione arriverà al 55 magari il ceo annuncerà l'ennesima acquisizione strapagata e l'azione crollerà e io sarò là pronto quindi sarò molto paziente non mi pento di non averci investito anche se l'azione è salita moltissimo in meno di un mese ovviamente mi dispiace però va bene così fa parte del gioco come investitori consapevoli non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo davanti una vita intera in cui investiremo perciò le occasioni arriveranno e soprattutto che la cosa più importante per un investitore è non perdere non a caso è la regola numero uno di Warren Buffett meno perdi più il tuo patrimonio crescerà velocemente e in maniera lineare non sono i per dieci a fare la differenza ma sono le perdite che si riescono ad evitare per questo video è tutto se vi è piaciuto per favore lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao